Ciao in questo video voglio mostrarti le mie migliori tre app da installare sulla tua Fire TV Stick per il 2023, per il mese di aprile. Prima di andare a vedere nello specifico quali sono le tre app che ti suggerisco di installare, ti ricordo se non l'hai ancora fatto, questo è il momento di iscriverti al mio canale, di lasciare un like se al termine di questo video l'avrai trovato utile ed interessante e soprattutto di attivare la campanella così da rimanere aggiornato su tutti i miei prossimi contenuti. Allora andiamo a vedere quali sono le mie tre app per il mese di aprile 2023 da installare sulla tua Fire TV Stick. Senza alcun dubbio al primo posto ti suggerisco di installare background apps and process list, un'applicazione molto utile, gratuita che ti consente di vedere non solo quali sono le applicazioni che hai aperto e lasciate in background ad occupare spazio inutilmente, ma ti permette di selezionarle singolarmente o in gruppo per poterle chiudere così da liberare spazio e aumentare le prestazioni del tuo dispositivo Amazon. Al secondo posto sicuramente ti consiglio di installare il mio media player preferito ovvero Kodi che adesso è arrivato alla versione 20.1 Nexus migliorata sia in termini di velocità che di prestazioni. Sicuramente l'app ideale per chi ama vedere contenuti video e audio in streaming. Ti ricordo che puoi installarla in maniera completamente gratuita e legale direttamente dal suo sito ufficiale Kodi.tv slash download. Terza e ultima app ma non certo per importanza ti consiglio di installare ES File Explorer, un file manager molto molto utile che già nella versione gratuita ti consente di attivare un indirizzo IP che una volta configurato sul tuo computer attraverso un gestore di connessioni FTP come per esempio Filezilla ti consentirà di accedere a tutte le cartelle di sistema della tua Fire TV Stick che poter inviare o ricevere file dal dispositivo o inviarli per il dispositivo. Queste sono le mie tre applicazioni preferite che ti suggerisco di installare per aprile 2023 e ti ricordo per ognuna di queste io ho realizzato delle guide complete sul mio blog ma anche dei video tutorial qui sul mio canale YouTube. Come fare per consultarle? Qua sotto in descrizione trovi tutti i link per poterle guardare. Direi che per questo video è tutto ma solo per il momento Andrea Mini alias Dozzi Vago ti saluta e ti rimanda al prossimo contenuto. Ciao, alla prossima!